Semplicemente le persone che stanno a casa controlleranno la propria proprietà e la proprietà dei vicini quindi non sono ronde, noi mettiamo i nostri occhi e li mettiamo a disposizione delle forze dell'ordine Non sono ronde, è controllo di vicinato gli occhi dei residenti saranno sentinelle del territorio è un'idea che si sta diffondendo in tutta la regione tra libera associazione di cittadini a Vigonza, comune colpito negli ultimi anni da molti furti l'idea è nata da un gruppo di cittadini già attivi con una chat sui social network di quell'esperienza che conta ad oggi più di 1600 iscritti si sono visti già i frutti alcuni colpi messi a segno da banditi nel territorio sono stati sventati Grazie alle segnalazioni in qualche caso sono stati sventati dei furti per esempio in via Prati a Vigonza è successo che grazie alle segnalazioni sono stati trovati dei ladri e questi sono stati fatti scappare e questi hanno lasciato lì l'area furtiva Ora un incontro voluto dal sindaco di Vigonza Nunzio Tacchetto per discutere della fattibilità dei controlli di quartiere i cittadini chiederanno al sindaco di finanziare dei cartelli che avvisino che in quelle vie si sta attuando il controllo partecipato del territorio questa è solo una soluzione per i residenti di Vigonza che si sentono bersaglio dei predoni Comune di Vigonza dal fatto che è all'autostrada vicina dal fatto che c'è il Brenta dal fatto che c'è la ferrovia è un comune che si presta siamo vicini le bande sono scuribande di bande dell'est e quindi siamo sotto assedio un po'